andiamo a fare un massaggio un movimento tolgato, anche in mezzo il pollice, l'indice, il medico un movimento tolgato, anche in mezzo 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 Grazie. 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 Grazie di essere qui con noi oggi. Oggi faremo un massaggio alle braccia, composto da prima dei grattini semplici. Poi useremo il pennello. Poi andremo a fare uno scrub e andremo a idratare le mani e l'avambraccia. Quindi partiamo dai grattini. Ditemi nei commenti se vi piace di più vedere i grattini sulle braccia. così. O sulle mani. A me piace molto vederli sui polpastrelli. qui. Qui. Quindi andiamo a fare un po' di grattini generali. penso che in questo video, video, avrò messo la musichetta un po' di sottofondo rilassante. ditemi anche se è qualcosa che vi piace o vi da fastidio. a me in certi video piace, in altri no, dipende. nei video massaggi se molto delicata mi piace. ma nei video normali no. andiamo un po' con il pennello. vado con il pollice, l'indice, il medio. l'anulare, l'anulare, l'anulare e il mignolo. anche con l'altra. no, non faccio. il pollice, l'indice, il medio, l'anulare e il mignolo. e poi vado su tutto il panno. in questo modo. e poi ancora un brazzo, tutto il panno e i dita. mi piace molto anche qui, all'interno del gomito, che è un punto abbastanza sensibile. ti piace? ti piace? vuoi dire sì? sì. ok. anche l'altro. delicatamente. il polso, palmo e i dita. e alterniamo da una parte la mano e dal lato del pennello. andiamo un pochino anche di lato. e all'interno. e all'interno. spero lo possiate capire. molto morbido, soffite. ok. passiamo ora allo scrub che vi ho fatto vedere, ho fatto io, molto in modo molto semplice. prima vado a bagnare leggermente. tutta la zona. ciao. perché ci sono fermi anche qui. ora si parla la zona. ecco l'quistro, spero che ci sono spost크�li. non si parla. andiamo a mettere un po' di questo scrub fatto da sale grosso, un po' di sale fino, olio a piacere e un po' di gocce di essenza di lavanda un po' di essenza di lavanda andiamo a fare un massaggio molto delicato perchè appunto questa è una zona delicata quindi esercita una pressione minima per la zona per la zona per la zona tutto va male? ok proviamo un sacco di lavanda per la zona per la zona per la zona ho voluto fare lo scrub anche perchè fa un rumore splendido ogni tanto vado a fare un weekend nelle spa ogni molto tanto e organizzano gli eventi tipo saune, quindi spettacolo per la zona uno tipo a tema vichingo o cose del genere e alla fine è tutta una scusa per fare una sauna e lì c'è un altro suono bellissimo che è il ghiaccio romatizzato che mettono sulla brace l'hai visto? bellissimo e che si scioglie immediatamente rilasciando appunto tutti gli oli essenziali è molto bello e poi arriva insomma dal tetto alla sauna che sbandiera tipo il asciugamano verso le persone e ti arriva un'aria calda che quasi non la sopporti però ogni tanto va bene unica cosa ricordatevi di togliervi i gioielli perchè io mi stavo stirando il collo con la collana e invece nella sauna umida, questo c'è il bagno turco fanno questi eventi con il peeling e appunto loro dicono sempre che usano semplicemente sale grosso e olio, con un po' di oli essenziali e essendo lì molto molto umido comunque fa sempre un suono stupendo con tutta la pelle super umida bellissimo la rischia l'olio è e adesso facciamo l'ultimo leggero massaggio alle dita e adesso andiamo a sciacquare il tutto vorrei farlo qui perchè sicuramente fa un bel suono ma abbiamo fatto un pompozzo quindi torniamo subito adesso risciacquiamo un'ultima volta col banno e andiamo a mettere una crema leggera è un po' oliata la pelle assorbe questa è una crema corpo un po' al teleno mi piace un casino solo che fa il tappino al latte mi piace un po' mi piace un minuto il tappino e prendiamo qui e prendiamo qui il tappino comincio a massaggiare le tre e vado ovviamente proprio decisi così qui qui l'aligno grazie bien un po' di carico anche in mezzo quindi vado a fare un bel massaggio qui anche sotto un po' di carico ok io spero davvero che questo video vi sia piaciuto e penso proprio sia giunta l'ora di abbassare le luci e augurarvi una buonanotte 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 pasticcini un bacione buonanotte che rispera buonanotte buonanotte buonanotte